Dunque, su Pedemontana il mio gruppo già in passato ha espresso la sua posizione estremamente critica e negativa. Però questa mozione, non so se i colleghi l'hanno notato, è molto, come dire, asciutta. È molto anche asettica, volendo, dal punto di vista politica, perché l'idea era quella, auspicabilmente, di farla approvare, evitando considerazioni che potessero in qualche modo dividere l'Aula. E, difatti, non parliamo in questa mozione di tutto quello che è stato riportato dai giornali in merito alla relazione di Raffaele Cantone. Costi lievitati del 47%, slittamento dei tempi, alterazione della concorrenza, danno dell'interesse pubblico. Non parliamo delle notizie riguardo agli appalti per 9 milioni di euro che Pedemontana ha affidato senza gara alla famiglia di Stefano Perotti, indagato per corruzione nelle vicende di Expo. Soprattutto non parliamo di tutto il tema della gravissima crisi finanziaria in cui versa la società. Manca qualche miliardata di euro per terminare l'opera e non si sa dove trovarla, sostanzialmente. Di tutto questo non parliamo e non parliamo neanche delle tratte che non sono ancora state realizzate e non sono in via di ultimazione. Dalla B2 in avanti, proprio perché abbiamo idee diverse su questo, non era l'obiettivo di questa mozione parlare di queste cose. Molto più banalmente e semplicemente questa mozione riguarda esclusivamente i tratti già realizzati, quindi le due tangenziali di Como e di Varese, la tratta A che è già in funzione e la tratta B1 che entrerà in funzione secondo le ultime notizie entro luglio. E qui l'idea è quella in qualche modo di preservare per quanto possibile il territorio e agevolare la realizzazione delle compensazioni ambientali che da accordi, da contratto dovevano essere fatte e realizzate contestualmente alla realizzazione dell'opera. Invece le due tangenziali e le tratta A le abbiamo già operative e delle compensazioni ambientali invece non sono pervenute quasi nessuna, se non nessuna del tutto. Noi abbiamo avuto in audizione in Commissione Ambiente il 12 giugno scorso Pedemontana, ci ha parlato delle compensazioni, stiamo parlando di opere che valgono complessivamente circa 22 milioni di euro, 3 milioni e 600 mila euro per la tangenziali di Varese, 2 milioni per la tangenziali di Como, 11 milioni e mezzo per la tratta A, 5 milioni per la tratta B1. Quindi parliamo di soldi per il territorio decisamente importanti e all'epoca, poi da allora, da giugno non abbiamo più saputo nulla, di fatto nessuna di queste compensazioni era stata realizzata per tutta una serie di motivazioni. Quindi c'è da registrare un ritardo rispetto agli accordi presi fin dall'inizio ai contratti. Per cui quello che noi chiediamo su questo aspetto è un focus particolare di Regione Lombardia sulla realizzazione delle compensazioni ambientali per queste tratte. Recuperare il ritardo e realizzarle in modo molto celere affinché i rischi finanziari che questa società oggettivamente sta correndo non abbiano ripercussioni negative sulla realizzazione di queste opere di compensazione. Io non amo molto il concetto di compensazione ambientale perché non è neanche pensabile di compensare ambientalmente la distruzione di un bosco secolare come quello della Moronera. Però il danno ormai è fatto, a nostro giudizio, e quindi quantomeno evitiamo la beffa di non vederci riconosciute e realizzate le relative compensazioni ambientali. Quindi il primo tema che tratta questa mozione è proprio quello di star sotto a Pedemontana, fare pressing su Pedemontana affinché realizzino queste compensazioni che sono dovute e che dovevano essere già realizzate. Il secondo tema è quello di evitare che questi tratti di Pedemontana diventino come la 4, cioè un viatico per capannoni, centri commerciali, che ci sia tutta un'edificazione sui lati della stessa. E quindi chiediamo che venga elaborato uno strumento di pianificazione strategica di vasta scala, un piano d'aria, valutate voi quale, con l'obiettivo di preservare tutto il territorio che corre lungo il manto stradale. E quindi chiediamo sostanzialmente che venga realizzata una fascia di inedificabilità sui due lati, il che andrebbe, come dire, ad essere coerente sia con la legge sul consumo di suolo che abbiamo approvato, sia anche la legge e tutte le attività che il Consiglio regionale ha fatto contro la proliferazione dei centri commerciali, ad esempio. Queste sono le due richieste di questa mozione. Grazie. 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 Grazie.